Cavalli del premio Federico Tesio, partiti! Sezione di Eddington, il teorico pacemaker ha raccolto la partenza più lenta di tutti mentre Presley si ritrova in vantaggio nei confronti della stessa Night Music Eddington a questo punto rimane in trattamento su McMahon, il quintetto chiuso da White Key Star Quindi in vantaggio Presley, vediamo che tipo di ritmo imposterà in questo momento il leader nei confronti di Eddington che per il momento non va ad affiancarlo per aumentare il suo pressing Night Music si mantiene terza in corda, seguita da vicino da McMahon in coda al quintetto sempre White Key Star Si è sviluppato così dunque il Tesio con Presley nelle vesti di frontrunner Galoppo andatura costante e dignitosa nulla più su Eddington che si mantiene in seconda al terzo in corda Galoppo invece la favorita Night Music nei confronti di McMahon che si mantiene quarto nella sua scia seguendola ovviamente come un'ombra e sempre a chiudere il quintetto White Key Star Queste dunque le posizioni con i cavalli che vanno a fronte alla piegata tutti dietro a Presley che continua a mantenere l'iniziativa nei confronti di Eddington che adesso si affaccia in maniera un po' più convinta nei confronti del battistrada Night Music nel frattempo muove dalla corda per seguire la scia di Eddington McMahon si mantiene sempre nella sua ombra e a chiudere White Key Star Cavalli che entra in retta d'arrivo, quella di pista grande, gli 800 metri della verità che Presley passa in vantaggio su Eddington si mantiene ancora in scia Night Music McMahon che fa altrettanto, White Key Star in coda passata l'intersezione ecco Presley che allunga in netto anticipo rispetto al suo avversario per cercare di rubare qualcosa rispetto agli stessi con Night Music che va al fianco del suo compagno McMahon che la segue e White Key Star che si muove a largo di tutti a sua volta in maniera ficcante Presley quando mancano 400 metri in fuga ma adesso Night Music si sta avvicinando pericolosamente McMahon ha perso qualcosa in questa frazione a largo c'è White Key Star Presley che prova a reagire all'attacco serrato di Night Music la grigetta ancora all'attacco di Presley che si difende ma è passata con Night Music nell'ultimo tratto di corsa Night Music sulla sua pista vince anche Federico Tesio dominandolo mentre un Leonino Presley tiene botta su White Key Star per il secondo posto poi McMahon vince quindi Night Music e sempre lei la Sida Stars Alexi Badelli in sella per la Star Salzburg ai colori e Sara Steinberg al training grazie 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 rea 李 DANIEL